Non è stato adottato il decreto di esproprio, dunque è illegittima l'occupazione dei terreni disposta dal comune di Galatima Mertino. Così ha deciso la seconda sezione del Tar di Catania sul ricorso di Sava Savio, rappresentato dall'avvocato Carmelo Briguglio. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione dei beni immobili di proprietà, trasformati in modo irreversibile in assenza di alcun decreto di esproprio da parte del comune, rappresentato dall'avvocato Walter Militi. I terreni sono stati espropriati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione annesse alle case popolari di contrada a Centimolo. Sono stati occupati e poi irreversibilmente trasformati senza che vi fosse un decreto di esproprio o un atto di cessione. Quale indennità, a titolo di acconto, furono comunque pagati oltre 78 mila euro. Il ricorrente, evidenziando di non avere interesse alla restituzione dei beni, chiese che il Tribunale di Sant'Agata di Militello disponesse il risarcimento dei danni, ma invece dichiarò il difetto di giurisdizione. Da qui il ricorso al Tar. Il comune montano si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso. Per i giudici il ricorso è fondato poiché a seguito della procedura espropriativa avviata nel 2001 per gli immobili, nonostante l'occupazione d'urgenza, l'esecuzione dei lavori e l'irreversibile trasformazione, non è stato accolto e il comune, condannato anche alle spese processuali, dovrà liquidare il danno, detraendo l'importo già condisposto a titolo di indennità provvisoria.